Amici di Trading Turbo 24, buona lunedì in questo primo appuntamento per il mese di dicembre. Andiamo a parlare quest'oggi di euro-dollaro, diverse leve che potranno muovere il prezzo delle quotazioni fra il cambio tra la divisa unica europea e quella americana. Da un lato i dazi di Donald Trump, una variabile che ha visto porre l'accento anche sulle prospettive dei BRICS, o meglio per i BRICS, qualora volessero procedere a quel processo di dedolarizzazione che ha caratterizzato i mesi scorsi. Insomma, questa è una delle variabili. L'altra riguarda la politica del vecchio continente con la crisi in Francia che potrebbe avere delle ripercussioni negative sul cambio. Ma andiamo a vedere il grafico. E così come possiamo vedere partiamo dalla mensile, una mensile che ha visto le quotazioni di euro-dollaro per diverso tempo rimanere sempre e comunque sotto questa trend line rialzista violata al ribasso nel corso del mese di aprile 2022. Una trend line che fa da resistenza in anni che non è mai stata riuscita se non momentaneamente nel luglio del 2023 e soprattutto un mese di novembre, lo scorso che ci ha portato a un ulteriore elemento tecnico-grafico di debolezza per quanto riguarda le prospettive di euro contro dollaro. Sto parlando di questa trend line ottenuta con i minimi dell'ottobre del 2023 così come quelli del maggio del 2024. Ora, quotazioni che hanno recuperato il supporto statico poste nella prossimità di area 1,04 e 50, ma un livello che potrebbe capitolare proiettando le quotazioni su quelli che sono stati i minimi, non solo la storia psicologica dell'area 1, ma proprio i minimi dell'ottobre 2022, così come quelli del novembre di due anni fa. Cosa fare? Beh, questo è un grafico mensile, si può andare a declinare il tutto scendendo di time frame con un settimanale. In questo caso si potrebbe attendere un movimento più ampio, un ribalzo più ampio che possa permettere di entrare a ribasso in prossimità di area 1,07 e 70, in questo caso uno stop da collocarsi in un primo momento in prossimità della soglia psicologica di 1,10 per chi invece ha una visione di più ampio respiro, addirittura in prossimità di area 1,13, ma poi un target per l'appunto in questo caso proiettabile in prossimità di area 0,995 come primo obiettivo e come secondo aspetto grafico area 0,97. Se si vuole invece lavorare ancor più nello stretto, beh in questo caso andiamo proprio sul daily chart, una attenzione in questo caso al rischio perché partiamo dallo stop, uno stop da posizionarsi sopra quelli che sono stati i massimi del scorso 20 di novembre, quindi sopra l'area di 1,06 e 0,99 per le precisioni si può andare in area 0,61 e 90 per dare un po' di agio alla strategia ribassista che si può implementare. Per quanto riguarda i punti di ingresso in vendita in questo caso si può andare a proiettarsi in prossimità di area 1,05 e 45 per quanto riguarda i target, ha una operazione di più breve respiro che ha come target primo naturale area 1,04,3 e 20 e poi qui si può per l'appunto provare a vedere se l'operazione ribassista possa permettere, applicando sempre un daily stop, di proiettarsi verso quei minimi ricavati anche dall'analisi del grafico settimanale mensile. Per quanto riguarda la possibilità di operare su euro dollaro così come altri numerosi sottostanti, mi ricordo la possibilità di utilizzare i CFD firmati IG, qua è molto semplice andare a impostare la propria strategia, infatti si può andare su ordine, andare a posizionarsi per l'appunto in vendita, andare a selezionare il livello, facciamo ad esempio l'area di 1,05 e 45, vedete in automatico viene a posizionarsi quello che sarebbe il punto di ingresso e da qui poi potete andare a proiettare quella che è la strategia, ad esempio posizionare qui il livello per il target e qui quello che può interessare lo stop, ovviamente andiamo ad esempio a guardare inserendo anche quella che è la size, in questo caso per un contratto una margine richiesto di 334,35 euro e un rapporto rischio rendimento che potete vedere qui con 72,60 euro di stop e 115,80 di reward, comunque IG.com per avere tutte le diverse soluzioni per il trading firmato IG, noi ci vediamo lunedì prossimo, buona settimana e buon trading a tutti voi!